Salve a tutti gente, bentornati in questo nuovo video e oggi siamo, come se potete vedere, su un po' più playtime, vi starete chiedendo, come lo so, non ci vuole molto, basta andare su Steam, se avete un computer Windows, e scaricarlo solo che a pagamento, io non ho pagato giustamente, e l'ho scaricato craccato, se volete ragazzi, anzi, vi lascio il link in descrizione del sito da cui l'ho scaricato, e scrivetemi per installare i giochi da questo sito, è un po' più difficile, perché è abbastanza difficile, e quindi ragazzi, se volete che vi lascio il link in descrizione, vi farò anche un videotutorial su cui mostrerò come scaricare diversi videogiochi da questo sito, che è molto difficile, non è molto semplice, quindi iniziamo ragazzi, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche, allora adesso ci dovrebbe essere il signore che ci parla, e ci spiega la storia, solo che è tutto in inglese, in inglese ci dovrebbe essere, non lo so, non lo so, non lo so, malvagia si è fatto il lavaggio del cervello al scienziato e ha fatto i schiavi diciamo possiede i scienziati a creare nuovi giocatori con all'interno un'anima di alcuni bambini e da questi giocatori sa chi vuole un cazzo di prima gigante alto che sarebbe il capito di questo gioco se lo sarebbe più se vedete un po' di cracker non so se il gioco dovesse crashare perchè è la prima volta che ci gioco non so se crashi non so la grafica com'è che si io ho i PS e io so con tutta la scuola però sono anche interessanti golli sicuramente se si mi ha un promote che è mezzo pagato è normale io spero solo che non crashi perchè è un gioco parecchio pesante però dai se riesco a registrare il gioco se ha un PS il gioco pesa la metà della metà in teoria non dovrebbe fare un video se ne vedete non so se cosa cosa succede ragazzi vi vedete dal canale comunque vi mostrerò in un prossimo video Come potete usare le sue pericare tantissimi videogiochi da Steam? Su questo sito vi lascio la descrizione e con questo sito potete scaricare i miei giochi di Steam, ragazzi. Solo se vedete 5,5,5,7 e mostri. In me, non so come fare il video da un'applicazione di Tore 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 di Tore. Anche se il problema è che il sito ci potrebbe essere, solo per scaricare la vedete che ci sono vedete che mi mostrerà. Come per profetto! Si trova o di base all'interno del computer Windows, oppure va scaricato, io lo dovuto scaricare. Se non mi ha scaricato, mi ha crashato, non so affatto perché. Ha caricato! Otterramma, non ti sta pi... Allora, non so, non so, spiega che carichi. Ho già provato a fare un po' di tentativi, anzi un po' di più, un tentativo. E non mi ha caricato, mi ha crashato, non so affatto perché. Ha caricato! Otterramma, non ti sta pi... Allora, non so se sia lag, o se siano FPS questi. Allora, ho messo le grafiche, eh, tutte al massimo. Mazzaraga... Vabbè, allora... Questo qui ha chi guagli, vabbè, sembra così ma è... Lo faremo. Allora, vabbè, io vi faccio vedere un pochino tutto quanto. Allora, per aprire... Vabbè, questo qui è il treno perché lo dovete scaricare. Questo qui è il treno su cui noi vediamo un codice verde, rosa, giallo rosso, io giallo proprio la memoria. Vediamo se si salta, ok. Non si può correre, purtroppo. E qui abbiamo una videocassetta, la prendiamo. Vediamo, noi proviamo a mettere un po' di cassette, però non dobbiamo per forza metterle tutte quante. Allora, giovani, mi chiamo Giove, mi chiamo come giusto. I amori, mi chiamo come giusto. No, 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 no. No, 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 no. E qui, vediamo, non stanno, ragazzi, mi chiamo di blu. E stiamo qua. ora qui c'è parte il coso Grappac che sarebbe questo qui sicuramente se lo conoscete benissimo il gioco poi il coso lì l'avrete sicuramente visto che ho messo per lo sapere prima e ragazzi scrivetemi anche se volete che faccio vedere giochi horror oh questo non è anche un horror alla fine non è vero mi sono a vederti di video di e poi cos'è rigato anche a diversi altri video giochi e poi cos'è rigato anche a diversi video giochi cos'è rigato anche a diversi video giochi e devo dire funzionano tutti quanti con questo sito solo che è un po' difficile perchè farlo non è semplicemente che si carichi l'app e entri come su android grazie cos'è e ora aspettate che ora è? no, per l'età, no eccolo il nostro grab barbio eccolo qui sicuramente lo conoscete ma eh se qui non potete non conoscerlo in teoria quando apriamo la mano rossa siamo con l'altra mano ok allora qui dobbiamo andare partiamo abbiamo già preso due cassetti abbiamo quelle lì non sono troppo importanti non penso di riuscire a finirlo alla prima botta e adesso ragazzi vedete l'immagine che è fatta ormai da sempre ecco questo è il nostro abituati e lo so è un po' inquietante ozzuzione eh madonna non ho mai visto dalla realtà no un po' inquietante ozzuzione solo che ora non ci fa nulla solo che se ci avviciniamo si può notare lui effettivamente respira si può vedere che il pelumpo si muove non essendoci aria però noi possiamo fargli quello che ci pare ma lui non ci fa nulla ora dobbiamo mettere la mano vabbè i bozzetti sono pochi ora dovrebbe comparire la mano cosa eccolo la non so cosa sta succedendo cosa cacchio come qua andate ecco fatto ok penso che per un attimo si sia disattivato il microfono perchè ho delle impostazioni strane ora lui sta sempre qui fin quando noi non andiamo qui e facciamo un lavoretto cioè di far partire la corrente quando la facciamo partire lui scompare quindi non tranquilli non ci sono jumps qui eeeh allora andiamo dobbiamo aprire qui andiamo allora si dobbiamo andare di qua vediamo che si è acceso ok ha fatto il cuore andami ragazzi eccolo e lui è scomparisciuto vabbè e lui è scomparso e noi ora dobbiamo andare qui e lui è scomparisciuto allora ragazzi adesso vedremo la manina di quell'infamuccio laggiù ed eccola la salve adesso noi appena noi purtroppo e appunto adesso dobbiamo andarci in teoria è una versione che è accada non so se questo qui prima ci fa il jumpscare però noi dobbiamo andare qui lui non ci sta poi ci parte il fumo in faccia ci fa il jumpscare possiamo anche guardarli via perché non ci sono jumpscare non ci sono i grandi video stessi non ci sono un scherzo ormai e ora noi dobbiamo andare qui e vediamo su possiamo vedere su più c'è una cosa io non so se ci sia però è comparso in diversi video non so se si però sia un edit del video ma ne dubbio non gioco più così adesso vedrete una cosa allora noi qui adesso noi dobbiamo mettere tanti di questi robbi qui in questi punti qua adesso magari che cosa si fa? aspetta pure e allora quando noi abbiamo raccolto tutti quanti li abbiamo raccolto tutti quanti e si stiamo salendo perché noi per raccogli dobbiamo fare il giro qui si dice che compare la faccia del signor Aghi e è comparsa in diversi video non so se siano gli youtuber fuori che hanno editato il video ma conoscendo questo gioco penso di non so se il gioco è proprio così ma ne abbiamo un altro qui andiamo ecco un altro lì ci ne manca uno solo perché ne abbiamo presi due tre e dobbiamo guardarci un po' eccolo là anzi l'ho trovato subito non pensavo pensavo di metterci tipo mezz'ora preso e adesso andiamo purtroppo non si può correre adesso noi quando saliamo facciamoci attenzione possiamo aprire e facciamoci un po' di attenzione potremmo incontrare quel infamone e adesso noi tutto guardiamo e mi sa che non c'è il travisso da qui scommettiamo che lui in teoria ci rimane finchè lo guardiamo guardate eh eccolo è chiuso perchè sapeva che lo prendevo che infame questo mettiamo questo ancora più c'è riduzione che lo abbiamo e lo so lo prendiamo e è l'infame che ci è arrivato non era un edit film era vero a quanto pare dai mettiamo più c'è riduzione e ragazzi scrivete anche nei commenti se vorreste sapere una nuova serie di magna perchè ho creato già il server potete intaccere ovviamente anche voi si prende e ok ora in teoria io con il pulsante testo faccio ok no ok ora ragazzi pure qui non mi chiamscherate perchè questo è un altro come ci si shifta po' oddio e oddio raga come ci si shifta shifta ah ok con ammazza che pulsante di schifo control si shifta ammazza possiamo WS allora qui noi dobbiamo andare di qua no dove ecco già stavo sbagliato dobbiamo andare di qua questa parte è più qui raga mi sono informatamente nato a sto gioco che ehm allora in teoria dovremmo riuscire a finirlo non penso per niente alla prima cosa non fare così non fare così qui sono moltissimi youtuber che ti hanno messo mezz'ora per fare questo non c'è ora ragazzi ci cadranno dal te i peri non 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 città del gioco ma eccoci qui ora si è salvato il cerco per questo caldo ha tirato una lagata ora ragazzi cosa è che dobbiamo fare dobbiamo andare qua sopra e qui pure ci sta andata giocata da 200 quale giocata molti pure qui non 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 ho mai sentita non ho mai sentito questa canzone allora dovrebbe essere la cassetta rosa raga cos'è non si leva non non allora da un po' che non mi vedo più video di questo gioco quindi non sono sicuro al 100% di farlo giusto non mi sbaglio era così così poi andavamo di qua e poi dovevamo andare così e poi così no allora ragazzi ci stavamo una giocata qui molto è difficile sto gioco perchè molte cose vanno capite ok 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 noi facciamo così poi andiamo qua andiamo qua no stavo per cadere no 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 io ragazzi non mi ricordo più no allora non era troppo allora no questo qui era con la manufra noi andavamo qua andavamo qua Così Sì Ricordo No No Un po' più avanti Grappac Bravo Non va No Regà Eh Faccio per me Faccio molto male Allora E' tosta qui la situa Perché Va capito E' una giocata molto Giugente questa ragazzi La mia giocata da giugno Ah perchè se noi tocchiamo Ho capito Ah no Un po' dovevamo andare Regà Vai Perché non va Scusatemi Proviamo a prendere Oh ragazzi Sarà può fare Questa la mira di forte No Non ci arriva Se ci è arrivato Non ci credo Abbiamo Ci abbiamo fatta Non ci basta Fa Oh no La cavolata No Perché Mi sa che non gli sta bene Mo' il gioco Subito mi sa che vera Uno di quanto crede Non posso tirarlo Non posso tirarlo Ma mi sa che non va Ah non devo tirarlo Non devo proprio tirarlo Perché a me mi basta fare così Io cavolo ho preso A me mi basta fare così E mi devo fareci No vabbè ragazzi Sono solo mezz'ora così E me ne passava No Ma Ma Scusate Ma forse al contrario Sì mi sa che al contrario Mi sia No No Ho fatto No vabbè ragazzi Ho fatto No vabbè Niente Ho fatto la cavolata Ce l'avamo fatto Ho cliccato Ho puzzato Sbacchia 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 Vado di qua Oh vabbè Cos'è uscito Sbacchia 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 Cosa Sbacchia Sbacchia Ok Sbacchia Stiamo iniziando a fruffo Non devo cliccare Pizzante destro Devo ricordare Allora Sbacchia 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 Che c'era per fare Una cosa Comunque ci avremmo messo cinque minuti Quindi ovviamente cosa dobbiamo fare quando me la faccio Una volta faccio coppia Purtroppo ragazzi Allora, ritorniamo Comunque sono con una campa Allora, ritorniamo qua E mandiamoci un po' di spazionante qui Poi Sicuramente è sicuro che si possa fare così Magari adesso non si potrebbe fare Allora, adesso io faccio così Non devo più essere Evitiamo di cadere Allora, devo fare Se io vado così Non va Devo fare così Oddio Non ci credo Pulsate sinistra Ce l'abbiamo fatta Ora, in teoria, se non mi sbaglio Sì, cado Sì, ovviamente Dov'è che cado Nel punto sbaglio Ok Ora noi ci passiamo Scusate Ma Ah Scusate come si fa Ma Ci ho puzzato Ah, forse con Shift Ragazzi, ci stiamo triggerando così tanto Ah, no, ma devo start Ma sono stupro Ah, ma sono stupid Ah, ma sono stupro Ma non soft Ma non andiamo Ma non andiamo Certo Vabbè, adesso si crea il tuanzo che dopo potremo andare a vedere questa sera qui. Lo prendiamo, lo pensiamo lì, ci avviciniamo alla porta e ci ritroviamo anche davanti. Dobbiamo scappare, andare in qui e poi il percorso è di ricordarmela fuori se non mi guarda fuori ai ragazzi. Beh, spero di ricordarmela fuori se non mi guarda fuori ai ragazzi. Non mi guarda fuori ai ragazzi, non mi guarda fuori ai ragazzi, non mi guarda fuori ai ragazzi, non mi guarda fuori ai ragazzi. Ma arriverà un po' di gioco. Bello sto gioco, bello il mouse. Guardate comunque la fabbrica come giocata male. Appena metto giocato con la fabbrica che si era guardata. Guardate, guardate come si sente. Adesso ragazzi preparatemi perché ci vedremo per la prima volta anche a Bazzini. Vai, 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 vai sentire il gioco? Sì. Io non c'è se questa cosa siano tanti per le altre volte. Lo devo prendere, muoviti. Guardate, guardate, guardate. Com'è? Ma che cosa? Ma ragazzi sto facendo un sentimento e non era riuscito, com'è? Dillo la prima volta, ecco. Ragazzi pronti? Allora... Raga ma.. ma... ma c'è una laggata assurda! Guardiamoci come faccia! no ciao raga ma se io cos'essi disettaccio cosi guardatelo adesso sto bastardo come ci guarda da qui eh ciao Aghi ciao ciao allora spero di ricordarvi il percorso il mio cuore ah raga sono morto perchè non correva qual'è il pulsante per correre che cacchio raga alzati e lo so perchè mo ci sta alzati devo trovare il pulsante per correre eeeh ok vabbè ragazzi direi che per oggi è tutto perchè già il video è venuto bello lungo ne registrerò un altro dove finiremo il gioco per oggi è tutto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace ciao 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 ciao